Milano Pavia News edizione Pavia, buonasera, ben ritrovate, andiamo subito a vedere i titoli del nostro sommario di oggi. Sapevano del forchettone e hanno ignorato il guasto per motivi economici e la ghiacciante svolta nell'indagine della tragedia del Mottarone, sono tre le persone arrestate. Il caso Broni Stradella, dalle carte dell'indagine emergono altri dettagli sulla gestione dell'azienda, il capo della banda arrestato avrebbe usato i suoi operai anche per fare lavori gratis nelle case degli amici. Il nostro obiettivo è vaccinare tutti, sono le parole di Guido Bertolaso, oggi in visita a Pavia per l'inaugurazione del lab vaccinale al Palacampus, la struttura può garantire oltre 2.000 vaccini al giorno. È partita da Monticelli Pavese l'indagine che ha riportato alla ribalta delle cronache l'utilizzo dei fanghi inquinanti in agricoltura, tutto nacque da una segnalazione del sindaco Berneri ad Arba. A Vigevano dopo più di un anno riparto nei laboratori teatrali diverse realtà della città, il teatro partecipato torna in carcere all'istituto De Rodolfi, al centro psichiatrico dell'ospedale. Questi titoli di oggi in apertura la drammatica svolta delle indagini per la tragedia del Mottarone nel corso della quale sono morte, lo sapete, 14 persone. Da quanto emerso dagli ultimi interrogatori chi gestiva la funivia era a conoscenza dei problemi della stessa funivia e avrebbe volutamente fatto sì che i freni di emergenza non venissero attivati per non avere problemi proprio nella gestione del mezzo. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio di Mario Fortunato. Sapevano del forchettone ed il guasto è stato ignorato per motivi economici e questa la ghiacciante svolta nell'inchiesta del Mottarone. Ci sono i primi indagati per la tragedia della funivia. Dopo lunghi interrogatori la procura di Verbagna ha iscritto nel registro degli indagati tre persone, ipotizzando i reati di omicidio colposo plurimo, lesioni gravissime e disastro colposo. Il fermo è per Luigi Nerini, amministratore della società Ferrovie del Mottarone che gestisce l'impianto, Gabriele Tadini, direttore del servizio e Enrico Perocchio, capo operativo. Secondo quanto riferito dalla procuratrice Olimpia Bossi, i tre sapevano che la cabina viaggiava senza freni dallo scorso 26 aprile, giorno di riapertura della funivia. È stato inserito il forchettone, ovvero il dispositivo che consente di disattivare il meccanismo frenante, un gesto consapevole per evitare i disservizi e blocchi della funivia. Il sistema infatti presentava delle anomalie e avrebbe necessitato di interventi di manutenzione più radicali rispetto a quelli effettuati, con un blocco temporaneo. Dall'analisi dei reperti è emerso che la cabina è precipitata con il sistema di emergenza dei freni manomesso, per evitare una riparazione adeguata, che avrebbe portato a una lunga chiusura dell'impianto, si è preferito rischiare nella convinzione che mai si sarebbe potuta verificare la rottura del cavo. Non è ancora chiaro invece perché si sia rotta la funetraente della funivia, ma quel che è certo è che la cabina non si è fermata immediatamente a causa della manomissione dei freni di emergenza, una scelta che costata la vita di 14 persone. Intanto si moltiplicano le iniziative a sostegno del piccolo Eitan Abiran, l'unico sopravvissuto di questo dramma, anche la scuola che il bimbo frequentava a Pavia, l'istituto Canossiane, ha lanciato una raccolta fondi nella presentazione proprio di questa iniziativa. È stato specificato che il contributo ovviamente è per Eitan e tutta la cifra verrà devoluta direttamente alla famiglia per esprimere la vicinanza e ovviamente la cura per il bambino e il suo futuro Eitan che nelle scorse ore è stato estubato, prosegue lentamente il percorso di guarigione per quello che, lo ripetiamo, è l'unico sopravvissuto a questa tragedia nella speranza veramente che possa tornare ad aprire gli occhi nelle prossime ore. Ci uniamo ovviamente a tutti gli auguri di pronta guarigione di queste ultime ore. Adesso voltiamo pagina, parliamo di un altro caso che ha colpito l'opinione pubblica soprattutto inoltre poi, il caso della Broni Stradella, gli arresti scattati nelle scorse ore, a quanto risulta dalle carte dell'indagine il presunto capo della banda che gestiva un po' gli affari loschi all'interno della Broni Stradella avrebbe utilizzato la sua influenza anche per fare dei lavori privati all'interno delle case degli ex degli amici. Vediamo tutti i dettagli nel servizio di Armano Bidone. I rifiuti senza valore dei cosiddetti amici venivano smaltiti a spese della società pubblica facendo carte false, magari fingendo di averli raccolti per strada. Quelli che invece valevano qualcosa, come i rottami in ferro, alla piazzola di Stradella spesso non ci arrivavano nemmeno. Venivano dirottati usando mezzi e attrezzature della società direttamente alle aziende compiacenti che li pagavano in media 80 euro a tonnellata, 60 in meno del prezzo di mercato. All'indomani del clamoroso blitz della Guardia di Finanza che ha portato all'arresto di sei persone, alla denuncia di altre nove, nell'ambito dell'inchiesta intitolata Piazza Pulita con al centro il servizio di raccolta rifiuti della municipalizzata Broni Stradella pubblica SRL, emergono nuovi dettagli, indizi raccolti dagli inquirenti che sembrerebbero confermare come gli indagati e in particolare il presunto capo della banda, il 59enne Salvatore Chianello, si permettesse di fare il bello e il cattivo tempo sfruttando i suoi sottoposti e utilizzandoli, per così dire, come operai a costo zero per fare lavori a casa propria e a casa ad altri, favori con cui pensava forse di ottenere dei vantaggi, come accaduto, secondo quanto scritto nell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal GIP Fabio Lambertucci, fra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, quando Chianello avrebbe inviato i suoi operai a ritirare rifiuti presso l'abitazione di un agente di polizia locale, senza esporre il costo di circa 2.000 euro per la raccolta e lo smaltimento. Non immaginava di essere sotto controllo, così come non lo immaginavano gli allora dirigenti della municipalizzata accusati di turbativa d'asta per aver affidato senza gara pubblica l'appalto dei rottami alle ditte esterne oggi inquisite. Parliamo d'altro adesso, affrontiamo il tema dell'emergenza sanitaria, andiamo a dare un'occhiata ai dati, come al solito della grafica che realizziamo ogni giorno, lo vedete in Italia le vaccinazioni per quanto riguarda la prima dose, siamo al 17,50% dei cittadini, al 17,80% per quanto riguarda quelli che hanno ricevuto entrambe le dosi, stessa percentuale 17,80% anche in Lombardia con la percentuale della prima dose che sale al 19,25%. Guardiamo i dati delle dosi somministrate ieri, oltre 455 mila in Italia, oltre 89 mila in Lombardia, numeri sempre molto alti che fanno ben sperare. Per quanto riguarda i nuovi positivi, qui vediamo che in Italia siamo a 51 ogni 100 mila abitanti, sono 48 in Lombardia, 43 mila hanno addirittura 37 a Pavia, dati che nelle scorse ore hanno consentito anche alla Presidente di Regione di dire che praticamente abbiamo già numeri da zona bianca in Lombardia, vedremo cosa deciderà ovviamente la cabina di regia. Oggi era anche una giornata importante per Pavia perché è stato inaugurato ufficialmente, nonostante sia già entrato in funzione il lab vaccinale al Palacampus, era presente anche Guido Bertolaso. L'obiettivo è quello di vaccinare tutti e non lasciare indietro nessuno, così l'ormai ex consulente della campagna anti-covid in Lombardia Guido Bertolaso ai nostri microfoni. Nel giorno dell'inaugurazione del lab di Via Giulotto a Pavia, una cerimonia ufficiale con taglio del nastro e visita degli spazi allestiti all'interno del Palacampus. Vogliamo vaccinare tutti quelli che non vivono in Lombardia, non solo i lombardi ma tutti coloro i quali vengono anche qui per vivere, per lavorare in questa bellissima grande regione. Siamo intenzionati a non lasciare fuori nessuno dalla campagna di vaccinazione, stiamo andando a prendere tutti quelli che stanno in casa, che non possono muoversi, soprattutto gli over 80, per vaccinarli uno per uno e lasceremo aperti tutti i nostri centri vaccinali fino a quando l'ultimo che vive in Lombardia non sarà stato vaccinato. E attraverso i nostri microfoni Bertolaso ha voluto replicare la polemica sollevata dal PD in regione sulla gestione di vaccini e vacanze estive. Mi pare che sia una problematica che riguarda un po' tutta la nazione, non solamente la Lombardia. Noi, come ha detto la vicepresidente Moratti, stiamo cercando di trovare un sistema flessibile che dia la possibilità quindi di fare la prima dose di vaccinazione, di andare in vacanza e poi o di fare la seconda dose laddove si va in vacanza oppure di spostarla e farla a rientro appunto dalle vacanze. Non mi pare che sia un problema drammatico. La campagna vaccinale nel frattempo avanza a passo spedito, anche se non mancano ancora le difficoltà. Stamattina alle 8 abbiamo fatto un'unità di crisi perché ci sono anche qui alcuni punti critici, perché i vaccini arrivano ma arrivano non in queste quantità industriali che ci aspettavamo. Quindi dobbiamo dosare molto la tipologia di vaccino in funzione delle fasce di età. Ci ha pensato il direttore generale del San Matteo invece a snocciolare i dati sull'attività del Lab di Via Giulotto. 2300 vaccinazioni al giorno, abbiamo fatto finora 68.000 vaccinazioni al San Matteo, come dicevo 100 persone al giorno che lavoreranno fino a novembre tutti i giorni, sabato e domenica compresa. Il nostro obiettivo è quello di vaccinare tutti. Presenti all'inaugurazione tutte le autorità politiche e sanitarie del territorio. Un centro organizzato molto bene che risponde all'esigenza di accelerare il più possibile la somministrazione dei vaccini e quindi di aiutarci in tempi rapidi ad uscire da questa situazione. È anche l'occasione per apprezzare la qualità del lavoro fatto e soprattutto per dire grazie ai tanti medici, infermieri, operatori, volontari della protezione civile. Il fatto di aver lavorato tutti insieme in squadra e dopo un primo momento con qualche difficoltà di essere emersi come la città che ha la percentuale più alta di vaccinazioni. Di questo bisogna ringraziare naturalmente tutti i primatori, ma dobbiamo ringraziare anche tutti gli operatori del settore che hanno dato una grande disponibilità. Sì, siamo anche qui presenti con strutture personale in questo centro vaccinale che è il più grosso della provincia di Pavia. Il nostro impegno è costante, continuo su tutti i fronti per fronteggiare questa emergenza. Una notizia di cronaca adesso. Aveva allestito una piccola farmacia abusiva in un'attività commerciale che in realtà vendeva tutt'altro. Per questo motivo una 35enne nigeriana è stata denunciata dai carabinieri. Nel suo negozio di Viale Trieste a Pavia teneva senza alcuna autorizzazione 78 confezioni di farmaci antibatterici e antinfiammatorie e 581 confezioni di cosmetici, questi ultimi senza etichetti in italiano. Il blitz è scattato coinvolgendo i carabinieri della stazione di Pavia, i NAS di Cremona, il nucleo cinofili di Casate Novo, l'ispettorato del lavoro e la polizia locale. I controlli hanno spiegato le forze dell'ordine e proseguiranno anche nei prossimi giorni. Adesso torniamo a parlare del caso Clear. Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato della posizione dei sindaci di quei comuni che avevano deciso di non pagare le fatture perché secondo loro Clear aveva tenuto una posizione, aveva seguito una procedura irregolare e adesso però c'è anche la posizione di chi, degli altri comuni che fanno parte del Clear, quelle fatture le aveva in realtà pagate. Sentiamo. Non si sbroglia il garbuglio che sta attanagliando il Clear. Al centro dell'attenzione in questa fase sono le fatture riferite al 2020 che l'azienda Lomellina di raccolta rifiuti ha mandato ai comuni, contenenti conguaglio con gli aumenti necessari per tenere in piedi i conti della società. Fatture respinte da diversi comuni, fra cui alcuni dei maggiori come Mortara, Mede, San Nazaro e Dorno, i cui sindaci avevano ribadito in un video comunicato diffuso martedì di non aver pagato in quanto Clear aveva seguito una procedura irregolare. Il mancato saldo di queste fatture sta creando problemi di liquidità, tali che se la situazione non si dovesse sbloccare nel giro di qualche settimana l'azienda potrebbe crollare. Ci sono però comuni che quelle fatture le hanno pagate. Chi ha deciso di saldare le fatture ha seguito una procedura validata dai tecnici. Il fatto particolare è che ci sarebbe almeno un caso in cui lo stesso alto dirigente sia trovato a lavorare sia con amministrazioni che alla fine hanno deciso di pagare, sia con amministrazioni che invece hanno deciso di rigettare le fatture. Pur rifiutando ogni polemica con i colleghi sindaci, il primo cittadino di Nicorvo spiega perché la sua amministrazione ha deciso di pagare. Chiaramente non ha fatto piacere a nessuno un aumento delle tariffe, ma l'abbiamo ritenuto sostenibile nel senso che Arera stessa nelle sue normative consente di aumentare le tariffe al di sopra di determinati limiti per il mantenimento dell'equilibrio economico. Per cui questo non è un sostegno finanziario, ma è un riequilibrio economico, valutato anche il fatto che sono circa dieci anni e questo è comprovato dalla documentazione che è stata anche presentata in assemblea e appunto da dieci anni sostanzialmente il CLIR ha delle tariffe più basse rispetto alle medie di mercato della Lombardia e del nord Italia e quindi è chiaro che si tratta di un riequilibrio. Anicorvo si è seguito questo iter, a dicembre si è approvato il piano economico finanziario proposto da CLIR che conteneva l'aumento delle tariffe. Sulla base di questo è stata stanziata la somma per coprire gli aumenti e quindi nelle scorse settimane si è provveduto al saldo delle fatture. Non avete paura di un intervento della Porta dei Conti? No, proprio perché a nostro avviso si tratta di un riequilibrio economico, l'aspetto economico rispetto all'aspetto finanziario ha una sostanziale differenza, per cui è stato valutato che il costo sostanzialmente del servizio erogato da CLIR avesse questo valore. Torniamo adesso a parlare invece del caso dei fanghi inquinati, una vicenda, un'inchiesta che ha avuto una rilevanza ovviamente nazionale sia per la portata sia anche per la pericolosità di quello che è successo e a quanto risulta tutta l'indagine sarebbe partita da una segnalazione di un sindaco del Pavese, il sindaco Enrico Berneri di Monticelli Pavese. È nata tre anni fa a Pavia e per l'esattezza Monticelli Pavese l'indagine che ha riportato alla ribalta delle cronache nazionali la questione dell'uso dei fanghi inquinati in agricoltura e che ha visto la denuncia di 15 persone accusate a vario titolo di traffico, illecito di rifiuti ed altri reati, tutte riconducibili all'azienda bresciana VTE con tre stabilimenti sul territorio. Fra i reati contestati anche il traffico di influenze illecite che ha visto coinvolti altri funzionali della pubblica amministrazione come il direttore di AIPO, l'agenzia interregionale per il PO Luigi Mille, secondo l'accusa avrebbe aiutato l'organizzazione ad ottenere autorizzazioni per la produzione e il successivo spandimento di 150.000 tonnellate di fanghi inquinati su ben 3.000 ettari di terreni fra il gennaio 2018 e l'estate 2019. Tra questi anche alcuni campi del Pavese fra Marzano e Monticelli dove l'ARPA tre anni fa con l'allora responsabile Fabio Cambielli intervenne su richiesta del sindaco Berneri che segnalava la presenza di liquami sospetti in alcuni terreni. Le successive analisi dimostrarono che quei presunti fertilizzanti presentavano tracce di inquinanti oltre i limiti consentiti. L'inchiesta avviata dalla procura di Pavia proseguì per un certo periodo per poi passare per competenza a Brescia dove hanno sede i tre impianti della VTE oggi posti sotto sequestro. Resta ancora da chiarire la situazione dei terreni su cui sono stati sversati quei fanghi inquinati. Secondo ARPA la loro contaminazione e quella delle falde acquifere non può essere esclusa a priori specie se gli inquinanti sono stati sversati per molto tempo in alte concentrazioni. Così come non è stato approfondito e non si sa nemmeno se lo sarà se i prodotti di quei campi, spesso cereali, presentassero tracce di inquinanti. I diretti interessati dell'azienda intercettati dalla procura di Brescia questo dubbio di certo ce l'avevano. Chissà il bambino che mangia la pannocchia cresciuta su questi fanghi? Io sono stato consapevolmente un delinquente, diceva un geologo dell'azienda VTE al telefono con un conto terzista che li spandeva sui terreni. Restiamo sulla cronaca perché nel prosiegue delle attività investigative dell'operazione Camel Light dei carabinieri di Vigevano contro lo spaccio nelle campagne, ve ne ricorderete ne abbiamo parlato ieri, sono stati arrestati altri due pregiudicati, entrambi di origine marocchina e senza fissa dimora, trovati a Corsico. Si tratta di un 21enne e di un 40enne che sono stati ovviamente trasferiti in carcere assieme ai complici. Ci spostiamo di nuovo in oltre po' adesso a Casei Gerola perché sono partiti, sono pronti a partire i lavori per la maxi logistica all'interno della ex fornace, un progetto che permetterà di recuperare un'area di smessa abbandonata di tempo e di realizzare un polo produttivo praticamente a impatto zero. Una logistica da 110 mila metri quadrati su un'area di 200 mila al posto della vecchia fornace di mattoni, è quella che sorgerà a Casei Gerola, a fianco dell'autostrada A7 Milano-Genova, al posto dell'ex fornace danesi, la cui demolizione si è ormai completata. Oltre 25 milioni di euro di investimento e la promessa dei 200 posti di lavoro sono alcuni dei numeri diffusi da Invesco, l'azienda che ha progettato il nuovo parco logistico. La costruzione del complesso dovrebbe concludersi entro il 2022. Le attività legate alle fornaci sono venute meno negli anni e quindi non c'è consumo di suolo, si tratta di un'iniziativa virtuosa e anche dal punto di vista del comune ci sono vantaggi, prima di tutto occupazionali e non solo diretti ma anche per l'indotto e poi per gli oneri che abbiamo ricevuto che ci permetteranno di eseguire alcuni lavori importanti e che erano attesi da tanto tempo. Con il suo milione di metri quadrati di aree dismesse da recuperare, metà delle quali occupati dall'ex zuccherificio e la sua posizione strategica all'intersezione fra le autostrade Milano-Genova e Torino-Brescia, il piccolo comune di Caseggerola si candida così a diventare un polo di attrazione per questo settore. La grande ferita sul nostro territorio è tutta l'area dell'ex zuccherificio che è un'area molto grande, più di 500 mila metri quadri, che è già stato oggetto nell'ultimo piano regolatore di una destinazione che può essere industriale come pure logistica e poi abbiamo altre fornaci sul territorio di smesse. Ci spostiamo a Vigevano dove nel nuovo regolamento che verrà approvato dal Consiglio Comunale verranno raddoppiate le multe per chi abbandona i rifiuti in città, non è l'unica novità perché il regolamento prevede anche di addebitare i costi di smaltimento del materiale appunto a chi abbandona i rifiuti. Sentiamo Paolo Barli. Aumentano le sanzioni per chi viene sorpreso ad abbandonare i rifiuti nel territorio del comune di Vigevano. Nel nuovo regolamento che verrà approvato a breve dal Consiglio Comunale è previsto il raddoppio della multa da 250 a 500 euro per chi abbandona ingombranti e macerie, mentre per i rifiuti più inquinanti scatterà automaticamente la segnalazione in procura. Non solo a chi abbandona, altra novità, verranno addebitati i costi di smaltimento del materiale. Modificheremo l'articolo 38 e l'articolo 18. L'articolo 18 è il versamento di ingombrandi, quindi sarà portato da 250 euro e passerà a 500 euro. Invece l'articolo 38,3, praticamente il versamento di macerie in giro, sarà anche portato da 250 a 500 euro. Ma oltre ad aumentare l'intensità e portarla da 250 a 500, una grande cosa che riusciamo a fare finalmente è che quello che viene trovato come ingombrante inerte viene pesato e dopo che è stato pesato viene imputata come spesa non alla collettività ma direttamente a chi ha fatto l'infrazione. Quindi paga chi inquina perché è lui che paga lo smaltimento che farà l'ASM. Proseguono intanto i monitoraggi con fototrappole e pattuglie in borghese sui luoghi in cui si concentrano le segnalazioni di abbandoni fornite dai cittadini. La Task Force di Nucleo Ambiente e Polizia Locale si sta concentrando ora in particolare su Corso Torino e Via Santa Maria. Ad esempio Via Santa Maria è una zona dove con la pattuglia in borghese abbiamo trovato un signore che lasciava vicino a una campana di vetro degli ingombrandi, che ciò non può essere. Anche in Corso Torino abbiamo fatto delle sanzioni con le fototrappole. Torniamo a Pavia per rilanciare l'allarme dei residenti del quartiere Mirabello che denunciano una situazione di incuria delle strade con tante buche ma anche una generale mancanza di rispetto degli automobilisti dei limiti di velocità. Sentiamo. Strade dissestate ed automobili che sfrecciano a tutta velocità come documentato da alcuni residenti con questi video inoltrati alla nostra redazione. Nel quartiere di Mirabello, periferia nord di Pavia, allarme viabilità. Problemi non nuovi a dire il vero che non sono mai stati sanati però negli anni. A cominciare dallo stato in cui versa Via Mirabello, la strada principale del rione. Problemi principali che ci sono qua sulla Via Mirabello è il manto stradale perché praticamente le fognature e i tombini continuano a lasciarsi andare e logicamente anche l'asfalto si rompe. La conseguenza è che si formano delle crepe anche ai muri delle case e quindi sono danni per i residenti. Oltre a questo poi quando passano i mezzi pesanti appunto fanno tremare tutti i muri, tremano i vetri e tutto, è un po' un rischio. L'altra cosa è i coppi che cadono dai tetti delle case, ne cadono quindi è un rischio sia per le persone per tutto. E poi c'è il problema dell'alta velocità che è un problema molto importante anche perché abbiamo, come vedete, una scuola lì da una parte e dall'altra parte della strada mentre c'è un asilo. Ma non si tratta di una polemica fine a se stessa. I residenti hanno anche alcune idee per risolvere quantomeno il problema dell'alta velocità. L'utilizzo di dossi, autovelox o di parcheggi alternati lungo la via potrebbero rappresentare soluzioni facilmente attuabili in tempi rapidi. La cosa fondamentale secondo me sarebbe mettere o dei dossi che limitano la velocità, per me è la cosa principale, oppure degli autovelox o qualcosa che comunque dei semafori che rilevano la velocità in modo da... perché gli autobus passano anche a 70 all'ora e poi ci sono macchine, moto che arrivano anche a più di 100 all'ora ed è un rettilino che è più lungo di un chilometro questa via qua. Sembra, non sembra, ma va fino alla chiesa e va fino poi si aggiunge a via Olevano e quindi sono più di un chilometro di via e quindi questo è pericoloso. Chiedete un intervento all'amministrazione in tempi brevi? Certo, chiediamo all'amministratore se possono intervenire il prima possibile per risolvere tutte queste problematiche che ci sono in questo quartiere qua. C'è poi, aggiungo un altro problema che mi è stato segnalato, che anche questo c'è da anni, praticamente l'illuminazione in questo rione è proprio scarsa. Cambiamo decisamente argomento, dopo più di un anno ripartono i laboratori teatrali avvigevano in diverse realtà della città in carcere, all'Istituto De Rodolfi, al centro psichiatrico dell'ospedale civile. Da giovedì 27 maggio riprenderanno, dopo 15 mesi, i laboratori di teatro del centro di riabilitazione psichiatrica dell'ospedale di Vigevano, presso la struttura di Viale Beatrice d'Este. È la ripartenza del progetto di teatro partecipato, finanziato dalla Fondazione Piacenza e Vigevano, che la cooperativa sociale Teatro Incontro svolgeva prima della pandemia. Ripartirà quindi il teatro con protagonisti, gli ospiti e gli operatori del servizio psichiatrico, ma anche il teatro in carcere e il teatro nella RSA De Rodolfi. Tre strutture che, in oltre un anno di pandemia, erano state costrette a chiudersi al mondo esterno, che ora invece si riappropriano dell'esperienza teatrale. Ci commuove molto riprendere, perché noi abbiamo dato per scontato tutta una serie di cose che il Covid ci ha insegnato a immaginare invece come fragili. I primi a essere chiusi dal 20 febbraio dello scorso anno sono stati tutti i luoghi dove noi lavoravamo, case di riposo, case circondariali, psichiatria. Quindi dopo un anno sembra che riusciamo a vedere un faro, riprendere è importante sia per chi ci sta aspettando da un anno e mezzo. La cosa molto bella è che i messaggi che ci sono sempre arrivati è quando si riprende, quando si riprende, quando si riprende. I luoghi dove la memoria è molto labile, il che vuol dire che il teatro dentro questi contesti ha una sua forza. Insieme alla ripartenza dei laboratori di teatro, al centro di riabilitazione psichiatrica, alla casa di riposo e in carcere, la cooperativa Teatro Incontro è tornata sul palco con due spettacoli attualmente in scena nella strada sotterranea di Via 20 Settembre. Fino a venerdì e poi dal 9 al 12 giugno è in programma il berretto a sonagli di Pirandello. Dal 15 al 18 giugno invece debutterà un nuovo spettacolo, Nella casa dell'ospite. Si chiama Nella casa dell'ospite, che sono interviste fatte a infermieri, os medici, che lavorano con gli anziani, fatta prima del Covid. Sono venuto fuori e ho ascoltato storie di una grandissima intensità che mi sembrava corretto per riportare in scena in questo periodo. Era l'ultimo servizio, è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo gli appuntamenti con la nostra prima serata con Dillo al giro e poi a seguire i tinerari, Maria Rosa Aurelio ci porta a Bagnaria. Grazie come sempre per averci seguito, una buona serata a tutti. Grazie a tutti.